La guerra è una lingua universale e io riconosco un disertore quando ne vedo uno. Ma non pensavo che potesse venire dall'alto. Invasione spaziale. Inseguimento in auto. Volevo mollare tutto e oggi ho conosciuto te. Quindi non sei di queste parti? È difficile da spiegare. Continuo ad avere dei ricordi. Ho dei flash. Penso di aver vissuto qui. Ma non capisco se è la realtà. È pieno di minacce lì fuori. Non possiamo farlo da soli. Ci servi tu. Io non sono quello che pensi. Grazie. 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 Grazie a tutti.